amici sportivi appassionati di grandi montagne ben ritrovati in questo nuovo episodio di salite da incubo oggi ci troviamo in friuli venezia giulia per la precisione siamo a cividale del friuli proprio da qui da questo punto centrale partirà la nostra scesa odierna monte mataiur un po il gigante di queste valli del natisone il re come viene definito come sempre come da tradizione in mia compagnia per tutto ciò che riguarda questa meravigliosa regione emiliano cantagallo naturalmente massimo esperto di salite e soprattutto di friuli venezia giulia ciao emiliano buongiorno buongiorno proprio da qui da cividale abbiamo deciso di intraprendere l'itinerario di quest'oggi proprio da qui scalderemo le nostre gambe i nostri muscoli in direzione appunto di questo gigante di questo monte mataiur miglior punto di partenza non può essere che questo proprio per scaldarci un po e andare sotto a questo a quella che è una delle salite più importanti credo del friuli ma lo vedrete fra un po essendo una delle salite più importanti noi ci siamo deliziati di un dolce tipico delle valli del natisone sto parlando della gubana perché le energie oggi ci serviranno tutte per arrivare fino in cima a questo punto prepariamoci allacciamo i pedali e partiamo questo è un bivio fondamentale qui la strada si divide abbiamo fatto circa 15 chilometri fino qui da cividale siamo a savogna e proprio da qua si disloca questo bivio che vi indurrà a scegliere uno dei due versanti noi naturalmente quale scegliamo quello più da incubo esatto quello più duro arriveremo a ironizza e poi a monte maggiore da lì in poi ci sarà veramente da penare anche se prima le pendenze medie sono molto importanti ma quando si parla di 10 11 al 10 per cento medio insomma è sempre importante basta con le anticipazioni andiamo arrivati fino a sternizza siamo completamente dentro una boscaglia con la pendenza media che è molto costante poi si arriva qui a monte maggiore patrick 960 metri di quota insomma da qui tra l'altro ci deve essere un bivio perché qui il giro d'italia nel 2016 transitò durante la tredicesima tappa loro concludevano la tappa civirale del friuli noi andiamo su nella punta più alta di questo matayur la sosta idrica diventa d'obbligo quando si entra nell'abitato di monte maggiore questa fontana restaurata dagli alpini non poteva non vederci fermi a riempire le nostre borracce ricominciamo a salire perché ci aspettano gli ultimi 300 metri abbondanti di dislivello la parte più difficile abbiamo l'acqua non abbiamo più scusa si poi questi 300 mari di dislivello li dobbiamo fare con pochi chilometri adesso vedrete è certamente il punto forse più difficile di questa scesa probabilmente una pendenza del 19 non la troviamo più di qui alla cima no anche se come vedi non accenna tanto a diminuire allora visto che non sembra diminuire io pongo rimedi una raccomandazione quando finite di integrarvi la carta sempre in tasca patrick cielo coperto ma devo dire la sincera verità è meglio che questo è una salita sicuramente da poter frontar affrontare in qualsiasi momento dell'anno tranne che agosto luglio gran bella salita siamo giunti in cima a questo monte matajur anzi a dire il vero siamo al rifugio pelizzo 1320 metri di quota qui finisce chiaramente la strada asfaltata come vedete alle nostre spalle il vero monte matajur 1641 metri di quota come usanza da quest'anno tutti gli ospiti godono di un particolare omaggio sono le rappresentazioni 3d delle salite che percorriamo ecco ti qua il tuo matajur che ti sei conquistato con grande merito e lo accetto molto volentieri ecco è da qui direi che è veramente tutto il nostro appuntamento è per il prossimo episodio di salite da incubo benvenuti in friuli venezia giulia grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti